La città magnifica, l'Italia quando fa squadra vince e questo è un esempio della squadra, qui al Nelson Mandela Forum, bellissimo nome che evoca tantissime cose, quindi l'unità che ci deve essere e la solidarietà che noi dobbiamo sempre avere, questo è importantissimo per me. Questo centro è molto ben organizzato, razionale, semplice ed efficiente, di questo ringrazio tutti coloro i quali l'hanno organizzato, è chiaro che è frutto di una sinergia fra il Comune, la Regione, l'ente che gestisce Nelson Mandela Forum, ma soprattutto visto dentro l'associazionismo, gli operatori sanitari, medici, infermieri, operatori sociosanitari, coloro i quali fanno il supporto logistico-amministrativo, che stanno operando con grandissimo entusiasmo e qui veramente esce fuori il grande cuore dell'Italia, che quando opera assieme verso un obiettivo che è di bene comune, dà il meglio di se stesso. Noi oggi siamo quasi a 28 milioni di somministrazioni e la Toscana sta facendo la sua parte, la Toscana era partita male, è inutile nasconderlo, dovuto a vari motivi. Con il Presidente da quando mi sono insediato c'è stato veramente un colloquio costante, continuo, franco e sincero.